Non ha senso continuare a tenere chiuse le attività come le nostre, pronte a ripartire, come c'è scritto qui. Anche a Fucecchio, come in altri territori della Toscana, va di scena il flash mob dei commercianti che chiedono riaperture in sicurezza ma veloci. Io non voglio dire di badare a codice Ateco, io voglio dire semplicemente controlliamo se le attività commerciali hanno risposto ai requisiti di sicurezza, hanno fatto protocolli per evitare il contagio all'interno della propria attività, vanno fatte riaprire subito perché la primaria necessità, sancita anche dall'articolo 1, è il lavoro. Tra le associazioni coinvolte è anche la Confesercenti che si stringe intorno ai propri iscritti pensando alla fase 2 come punto zero per un rilancio di una nuova economia. I negozianti, specialmente quelli dei centri storici, sono organizzati come in questa realtà di Fucecchio, sono pronti rispettando le regole a ripartire garantendo la sicurezza dei clienti e soprattutto la propria delle proprie famiglie, ma anche sicurezza del proprio lavoro. Per alcuni aspetti può essere anche un'occasione, gli operatori in questo momento di fermo non sono stati a guardare ma si sono formati, hanno studiato, hanno capito anche come intercettare nuove idee e iniziative. Quindi questa che parte da Fucecchio è una grande iniziativa di rilancio. Ora chiediamo di poter riaprire le nostre attività. La questione fondamentale, sottolinea il presidente del Centro Commerciale Naturale di Fucecchio, è che noi siamo professionisti e bisogna essere trattati da tali. Basta chiusure forzate, noi siamo stati responsabili. Molti di noi hanno chiuso addirittura prima del DPCM del 12 di marzo, quindi l'11, il 10. abbiamo dimostrato grande responsabilità e quindi vogliamo essere trattati da professionisti e da persone responsabili e padroni del nostro settore.